Disagge rinforzi per la campagna vaccinale in atto e sarà siglata lo scorso 11 giugno resa pubblica in giornata la convenzione tra l'Astlo 1 e la protezione civileana di Sulmona attraverso la quale viene recepita la disponibilità degli alpini per dare supporto al centro vaccinale di Sulmona tra le figure amministrative, un accordo che suggella una collaborazione tra l'azienda e Sodalizio che resta in prima linea nell'emergenza pandemica al pari delle altre associazioni di volontariato. Anche oggi si sono registrati numeri pressoché buoni, 341 dossi programmate per inoculazione a Sulmona, 90 a Prato, la 127 a Cassel di Sangro. Una fotografia che conferma la necessità di riorganizzare piccoli hub vaccinali che hanno raggiunto una buona percentuale in rapporto alla densità. Numeri alti a Sulmona dove soprattutto per gli effetti del caldo e della bella stagione si segnalano disagi in ordine alle attese per la carenza di una struttura di accoglienza all'esterno. Ma si sa che bisogna armarsi di pazienza anche perché l'organizzazione dell'ambulatorio è ormai collaudata. Con lo stop e richiami di AstraZeneca per Under 60, una vaccinazione per i giovanissimi che stenda a partire, già da domani potrebbe esserci qualche problema per le forniture. È atteso infatti un nuovo carico di Pfizer per mercoledì, ma si sta cercando di spingere per non perdere nemmeno un giorno sulla tabella di marcia. Intanto il bollettino del 14 giugno è da consegnare agli annali perché la casella dei nuovi positivi questa volta rimane vuota in tutta la provincia dell'Aquila e non solo nel centro Abruzzo che conferma il suo trend di miglioramento. Il quadro epidemiologico sta allentando la preoccupazione e permette agli addetti lavori di respirare, fermo restando le sfide del prossimo futuro. La gestione con prevenzione e tracciamento del flusso turistico in arrivo, la vaccinazione dei giovanissimi e l'isolamento delle nuove e vecchie varianti. Un sistema che non si ferma neanche un po'. Il dato odierno è da rilevare. Scende a 118 il numero dei sorvegliati, a 66 quello degli attuali positivi in centro Abruzzo. A guidare la mappa del contagio restano sul Mona con 28 covid che devono negativizzare e Pratola che scende a 24. Sono 4 gli attuali ricoverati, nessuno in terapia intensiva. Un 17enne di Pratola positivo da alcuni giorni è stato trasportato in tarda mattinata in ospedale per gli accertamenti del caso. Su fronte ospedaliero si registra il trasferimento di una paziente della chirurgia in area grigia per l'esito dubbio del suo tampone. La speranza è di mantenere la tregua con i comportamenti quotidiani e con un sistema pronto a reggere l'effetto estate.